Salve a tutti ragazzi, buongiorno, mi scuso per gli amici che veramente chiedono ancora che io faccia altri video per il momento ho sospeso l'attività perché oltre che sto facendo alcune produzioni ma sto facendo anche la comparsa per un film quindi infatti mi sono svegliato alle 6 di stamattina, vabbè, questo è per farvi sapere i ragazzi miei niente, vabbè, nella sala io vi voglio far vedere i miei strumenti, quei là i miei preferiti in verità ce ne sono altri, ne ho altri dall'altro lato ma non ho il modo, adesso vabbè, c'è troppo tempo però vi voglio far vedere che qui abbiamo una Recording Custom Made in Japan non so se si vede, vabbè, comunque è Made in Japan e niente, questa ha il primo tom, ci ho fatto Via di Claudio Baglioni e c'è il primo tom da 14, qui ho questi vogliono, c'è il 16 e il 18 cassa 24 per 16 poi abbiamo questa qua, ci ho fatto una canzone di Vasco Russi che pure ha avuto un discreto successo dietro c'è il quadro del Ceddle che avevo appeso nei primi video che avevo fatto giù al garage mio che è stata un'altra parte, non al Malfi Studio, vabbè comunque la cassa è sempre 24, questa è per 16 ed è una... aspettate un attimo, ho un po' di problemi la mattina ma non solo la mattina, niente, questa è una Gretsch Renault 1 New cioè è il modello nuovo che ha gli stessi cerchi, le stesse meccaniche della Brooklyn c'è sempre lo stesso trattamento internamente della Gretsch USA normale e devo essere onesto, questa batteria fa paura devo dire una cosa, non è la custom, non è la usa custom per me si avvicina tantissimo cassa 24 per 14, timpano 16 per 16, 13 per 9 bomba poi c'abbiamo quella là che ho fatto il video comparativo con una batteria molto più costosa ed è questa qua questo è un gioiellino ragazzi, veramente una Dixon Demon che pagai pochissimo c'ha 10, 12, 14, cassa 22 per 14 o 13 mi ricordo 13 e mezzo perché la feci tagliare io era 22 per 20 però mi serviva per trasportarla, per fare cose veloce c'ha un suono spettacolare Tom 14 per 14 a terra e il 16 che ho aggiunto io e poi abbiamo la mitica DV Sati 9 Black Hardware 10, 13, 12, 16, 18, cassa 24 per 18 e questa vabbè la conoscete, ci ho fatto un sacco di video che dirvi ragazzi? a breve farò altri video, ci sono delle belle cose sto facendo alcune produzioni musicali quindi sto registrando di più come batterista turnista fortunatamente, per ammortizzare le spese della situazione è qua, che voi vedete solo questa sala qua ma ne ce ne sono altre che stanno chiuse oramai e niente, molto probabilmente metterò un link sotto per supportare il canale se potete, se volete supportarlo un poco giusto per ammortizzare le spese e niente, vi do un abbraccio, un bacio a tutti spero che ci incontriamo presto live buona giornata, buona musica ragazzi e Camaron va compagna anzi, ci va compagna ciao